Chi vorrebbe una Francia senza Louvre? O una Russia senza remitage? L'Università di Louvre è il primo alto funzionario francese che vedo al suo posto. Parla tedesco? No, sono molto francese. Anche la più felice delle città non è al riparo da un disastro. Chi sarei stato se non avessi potuto vedere gli occhi di coloro che vissero prima di me? Ma forse tutto questo non è mai successo. Grazie a tutti.